Allora, Salvatore Esposito, INFN di Napoli, ex segretario SISFA, with the eyes of the witness, the police engine of the King of Naples. Grazie, grazie Roberto. Sono avvicendate un po' di ricerche fino allo scorso luglio dove sono andato in Inghilterra a recuperare un bel po' di materiale di cui questa sera vi parlerò solamente di una minima parte che sono stati da scoprire in questi due mesi, che riguarda Giuseppe Saverio Polli di una macchina a vapore e soprattutto, diciamo, tutto l'intervento è finalizzato a far vedere, a correggere sostanzialmente un errore che trovate in tutti i manuali di storia, non di storia della fisica, di storia, in cui si dice che i frutti, diciamo così, della rivoluzione industriale che poi sono originati dal miglioramento della macchina a vapore fatta da VAT nel Settecento giungono in Italia nel regno delle due Sicilie vabbè, questo è vero perché è il maggior regno italiano prima dell'unità d'Italia nel 1818 quando Ferdinando I delle due Sicilie fa costruire e mette in operazione il primo piroscafo, il primo battetore in Italia qui da là, diciamo, si origina, poi c'è la ferrovia Napoli-Portice, eccetera, eccetera diciamo, l'errore è esattamente di 30 anni perché in realtà la macchina a vapore giunge a Napoli per interessamento appunto di Giuseppe Severiopoli esattamente 30 anni prima ma c'è tutta una storia curiosa dietro per cui, diciamo, gli storici se ne sono dimenticati quindi non è tanto colpa loro e di cui cercherò di dirvi qualcosa in questo intervento giusto rapidamente, vabbè, ho scritto due notizie biografiche ma noi ci concentreremo ovviamente solamente sulla parte perché Watt e Bolton stavano in Inghilterra sul periodo londinese di Poli sappiamo adesso precisamente quando giunse a Londra cioè in Inghilterra in generale nel 1779 fino al 1780 c'è stato almeno una volta dico almeno perché fino ad adesso si è dato per scontato che ci fosse stata un'unica volta in Inghilterra e al momento non c'è nessun documento che dice che può essere stato più di una volta e allora perché faccio la puntualizzazione? perché invece adesso sappiamo che c'è stato un paio di volte in Olanda un paio di volte in Francia in Austria per vari incarichi e quindi non è peregrina l'idea ma di questo non ne parlerò sappiamo pure dove risiedeva a Londra, a South Street perché abbiamo una lettera di Bentham scritta a Poli a Londra conosce nel 79 la prima cosa importante che gli succede subito praticamente è che viene fatto fellow della Royal Society ma home member non membro straniero un privilegio che gli inglesi hanno concesso a pochissime persone ovviamente per i suoi saggi già pubblicati sull'elettricismo eccetera a Londra conosce e poi diventa amico come vedremo di Jesse Ramsden che ovviamente conoscete benissimo dai market ed è proprio Ramsden che lo presenta e probabilmente lo accompagna anche nella fabbrica di sodi Bullton il socio di Watt e non solo di Watt a Birmingham ci sono tante altre notizie non ve ne dico nessuno vi aggiungo giusto un paio di cose che non c'entrano niente su quello che vi dico nel 1814 una memoria non nota l'ho scoperta quest'anno in cui Poli scopre come si può fare il tabacco con delle foglie di patate chi è interessato non c'entra niente con l'argomento ma ve lo dico lo stesso e visto che si è parlato parecchio sì un paio di paginette però interessante insomma interessava l'erede al trono di queste cose ecco se volete sapere visto che si è parlato tra ieri e oggi almeno due o tre volte di Alexander von Humboldt che è stato ovviamente anche a Napoli cinque mesi prima di morire nel 1824 in suo onore von Humboldt in onore di von Humboldt che viene a Napoli e von Humboldt visita l'istituto il regio di istituto di incoraggiamento di cui è presidente Poli e Poli scrive una memoria come sta scritto lì il 10 novembre 24 sui vantaggi che rega il Vesuvio che viene letta davanti a von Humboldt aspetta proprio va beh diciamo questo è giusto una cosa e l'ultima cosa curiosa prima di entrare nel dettaglio è che Roberto forse non sai che diciamo sono riuscito parzialmente a capire come sono arrivate le famose cere della Pina Mirabilis di Poli eccetera in Francia che aveva scoperto poi qualche anno fa Ilia Temkin al Museo delle Scienze Naturali di Parigi furono probabilmente il nipote che le dovette vendere a caro prezzo a un viaggiatore tedesco e dal viaggiatore tedesco le acquistò Jean Hermann un naturalista francese e alla sua morte andarono al cabinet des jardins des plans de Paris e quindi poi sono negli scandinavi del museo vabbè entriamo entriamo nel vivo la macchina a vapore o come veniva descritto diciamo in Italia la tromba a fuoco la tromba a vapore Poli ne parla diffusamente nell'edizione dall'edizione del 1794 degli elementi fisiosperimentali in particolare nel tomo 3 fa una bella introduzione diciamo a questa macchina e come si trova in parecchi altre opere di Poli ci mette anche degli elementi biografici come dice qui appunto lui quando è stato in Inghilterra ne ha vedute parecchie è rimasto impressionato insomma di tutte queste cose l'incomparabile signor Watt apprezza lui non conosce direttamente Watt almeno da quando abbiamo capito ma Boulton sì probabilmente questo non lo lui lo dice questo è proprio come sta scritto in gli elementi del tomo 3 non lo posso dire con sicurezza ma probabilmente quel Ramsden a Ramsden aveva commissionato un modello di una macchina a vapore che aveva acquistato per l'Annunziatella per la Reale Accademia Militar funzionante come lo descrive qui lui e altri diciamo in altri luoghi che viene mercella efficace di essere come che nonostante sia piccolo il modello viene innalzato un volume notabile di acqua per entrare una tomba si fa girare tromba si fa girare un molino che macina effettivamente del grano si dà modo a un altro che spadole il lino e si fanno agire dei martelli di ferriere evidentemente per motivi didattici invece quello che dobbiamo correggere l'errore riguarda non questo modello ma riguarda una macchina a vapore una pompa diciamo per estrarre acqua fatta costruire proprio da Poli per servizio di Ferdinando IV di Napoli o Ferdinando I delle Due Sicilie come volete in cui anche questa viene descritta nel tomo 3 degli elementi e in qualche altro giornale italiano che dico appunto l'antologia romana eccetera che però riprendono evidentemente dal tomo 3 che fu fatta costruire da Poli in carico come vedremo adesso ricostruito la storia in dettaglio per il reggio di Carditello vicino capo in provincia di Caserta dove si trovava quella che io ho chiamato qui una vera e propria fattoria fu fatto diciamo il primo impianto del padre di Ferdinando IV cioè Carlo III di Borbone nel 1745 che praticamente installa un allevamento di cavalli però Ferdinando il figlio se ne innamora anche più diciamo della regia di Caserta che può sembrare strano questo è abbastanza grande ma ovviamente non è paragonabile alla regia di Caserta anche per bellezza anche se è molto bella fresca eccetera è più appassionato a questa che non alla regia di Caserta perché la regia di Caserta era talmente ma sotto non finiva mai i lavori e quindi lui non poteva mai andarci e quindi era più questa era una cosa più una casetta per divertimento anche perché lui andava a caccia allora i lavori si ultimano nel 1785 e cosa succede? che ovviamente in una fattoria bisogna irrigare i campi fa molto caldo nella piana di Caserta in terra di lavoro e quindi diciamo le piante si seccano se volete impiantare oltre all'allevamento anche coltivare qualcosa dovete irrigare perché se no è tutto secco e non si fa e allora serve irrigare come si faceva all'epoca portando i secchi ma non è molto pratico oppure se avete una pompa a disposizione c'è il volturno a qualche chilometro a due o tre chilometri da lì e allora che succede? facciamo un passo indietro come avevo detto nel 79 Poli sta a Londra probabilmente nell'ottobre o forse nel novembre del 79 Poli visita Birmingham e incontra Bullton in compagnia dell'ambasciatore veneziano Simon Cavalli appunto lo introduce Ramsden come viene detto sia da Poli che da Bullton eccetera e a Birmingham gli fa vedere Bullton gli fa vedere tutta una serie di cose per cui lui rimane impressionato e anche gli spiega le meraviglie della macchina a vapore che lui comunque vende appena terminata la reggia di Carditello nel 1786 luglio in pieno calore evidentemente il re gli dà l'ordine di Poli evidentemente al re l'erede al trono Francesco gli descrive tutte queste meraviglie della macchina a vapore di Watt e quindi che cosa fa alla fine il re facilmente credo aggiungo io si convince a dare ordine a Poli ok allora acquista questa macchina così la mettiamo sul volturno quello estrae l'acqua dal volturno e tramite una serie di canali regliamo tutte le la tenuta insomma e quindi il 4 luglio dell'86 tutti i documenti che vedrete qui citati comprese le foto eccetera eccetera si trovano alla Birmingham Central Library dove sono custodite quasi tutte le carte di Bulton e Bat e quindi anche le lettere di Poli a Bulton e tutte le cose che vedrete qui oltre ad altre cose i tempi sono maturi all the circumstances are favorable per dare via a quello che già gli aveva anticipato di persona Poli a Bulton quando stava lì che forse poteva far comprare una macchina vera non un modellino per il re e quindi diciamo ok gli descrive tutta la storia gli dice quanta acqua hanno bisogno nelle coltivazioni eccetera e qua si vede un po' l'ingenuità che poi ritornerà allora compriamo tutto così siamo a luglio a settembre ci stanno due fregate del re di Napoli imbarca tutto in scatola di montaggio mandocela perché ci serve subito questa cosa tenete presente per erigere diciamo una cosa di queste ci vogliono due o tre anni come infatti avvenne però evidentemente lui non lo sape e andava di fretta quindi buon viaggio vieni pure tu perché ovviamente chi la sa montare insomma fai buon viaggio ci vediamo a settembre ecco questo è il riassunto a settembre Bulton a stendo legge la lettera di Poli perché sta un po' in giro lui fa il commerciante sostanzialmente vatte la mente lui il braccio operativo detto male insomma prima del 26 settembre dell'86 riceve la lettera di Poli la prima cosa che fa in forma vatt erano delle persone molto per bene diciamo non teneva niente all'oscuro il suo socio e due giorni dopo il 28 settembre scrive a Poli innanzitutto dicendo guarda non è proprio un modellino che possiamo fare subito subito e soprattutto si meraviglia forse non conosce l'essenzione di queste tenute reali si meraviglia che dell'entità della macchina richiesta per cui dice ma non è che forse hai esagerato un poco troppo con con le richieste e allora Poli che fa ottobre massimo novembre Poli riceve la lettera di Boulton e oramai è passata l'estate quindi diciamo è inutile andare di fretta e quindi per rispondere scientificamente alle richieste di Boulton fa degli esperimenti per vedere effettivamente quanta acqua fosse bisogna vabbè qua viene un po' scritto l'esperimento vi potete immaginare si divide tutte le tenute in vari pezzettini ogni pezzettino si vede quanta acqua ha bisogno per il tempo che ne ha bisogno eccetera diciamo è abbastanza l'idea non ve la descrivo però è interessante il fatto che faccia questa cosa e conferma in pieno le stime evidentemente teoriche che aveva fatto prima però adesso ha fatto l'esperimento di cui come vedete Boulton rimarrà impressionato e qua continuo con l'internità allora mi raccomando il re manderà un'altra volta delle navi per portare un regalo a sua maestà britannica metti tutti in scatola di montaggio fai presto mandacelo eccetera c'è buon viaggio e anche qui diciamo ovviamente non succederà non succederà perché appunto come avete visto Poli scrive il 27 febbraio da marzo e per diversi mesi Poli non riceve nessuna risposta da Boulton lui evidentemente insiste ma non gli risponde mai il 24 luglio è l'ultima lettere che scrive Poli a Boulton per dire mi vuoi rispondere perlomeno muoviamoci non mi far fare una brutta figura con il re io ho promesso a sua maestà che gli procuro la tromba poiché non riceve risposta che fa scrive all'amico che c'ha a Londra che lo ha presentato Ramsden e Ramsden che evidentemente ci teme a non fare una brutta figura con l'amico Poli scrive almeno due o tre lettere e poi lo incontra pure personalmente a Boulton quando Boulton si trova a Londra per dire guarda non mi fa fare una brutta figura questo qua sta parlando del re eccetera e insistentemente lo incontra almeno due volte a settembre Boulton gli dice sì sì non ti preoccupare domani vado dall'ambasciatore chiarisco tutto scrivo tutto facciamo tutto anche perché la vuole vendere ovviamente è impegnato in altre cose non è che non lo vuole fare però poi Ramsden evidentemente capisce la brutta figura che sta facendo pure lui che gliel'ha presentato e praticamente il primo ottobre gli manda un ultimato gli scrive la gli manda una lettera che ha intenzione di mandare a Poli per scaricare Boulton sostanzialmente dice senza se non mi rispondi entro 14 giorni io mando la lettera e sostanzialmente gli dice tu hai perso l'affare e quindi fai una brutta figura e diciamo qui sortisce l'effetto perché poi finalmente gli scrive l'8 ottobre Boulton da Poli e si dà inizio e da cosa lo si capisce perché si parla pure del prezzo e qua succede un'altra cosa simpatica quando Poli era stato a Londra nel 79 come racconta Poli e si ricorda anche Boulton gli deve aver detto tutto che insomma senza farvela lunga la macchina costava mille sterline per costruire altre mille sterline come proventi di Boulton e Watt per erigere eccetera eccetera in totale due mille sterline mentre invece qua Boulton facendo i conti costa mille e cinque più mille quindi due mila e cinque c'è più diciamo la diaria da dare all'erector quello che erigerà diciamo la macchina di 6 novembre quando gli arriva Poli risponde a Boulton che gli aveva chiesto altri dettagli tecnici e qui Poli entra sempre nel medio delle questioni scientifiche gli fornisce due tavole dettagliate del diciamo del terreno per dirgli guarda la possiamo mettere qui qui proprio dettagliatamente purtroppo abbiamo la descrizione delle tavole ma non abbiamo le tavole non si sa per quale motivo perché Boulton e Bout conservavano tutto vabbè comunque gli risponde e un'altra volta la fretta mi raccomando assolutamente per la prossima primavera ce la dobbiamo spedire e questa volta ovviamente si farà veramente e qui la cosa interessante è che Poli gli chiede poi ovviamente mandaci una persona come succederà e poiché il re vuole essere informato di tutto mandaci pure i disegni e tutte le istruzioni necessarie non perché la vuole costruire lui ma perché dici no il re poi vuole essere aggiornato e qui secondo me più che il re era lui che voleva essere aggiornato insomma tenersi al corrente e poi affronta pure la questione del prezzo e qua dice guarda tu mi hai chiesto 2500 sterline io avevo detto al re che ne sarebbero costate 2000 the king therefore being already acquainted with those particulars in the most solemn way I beg you will consider with your knowledge and prudence if it is honorable for me to mention any alteration about the price so the engine anche se era di Molfetta aveva capito a Napoli come funziona il re diciamo trattava sul prezzo perché doveva pagare 500 sterline in più e aperte e chiusa le parenze come vedremo infatti c'era riuscito alla fine pagato 2000 e non 2500 e qua un'altra cosa simpatica mi raccomando mandaci un esperto eccetera eccetera guarda con 25 sterline qui a Napoli perché la vita non è cara il tizio che ci mandi diventerà un gentleman il little gentleman perché le vettovaglie non sono il bit non è cario e poi troverà un'abbondanza di vino qua a Napoli anche se non trova la birra questa cosa vi sembra solo una battuta come vedremo mica tanto io non credo affatto che Poli conoscesse chi normalmente Bulton e Vatt mandassero come loro forse diciamo ma poi ho scoperto andando informare che quasi tutti gli erettors che mandavano a Napoli in Olanda o altri posti dove vendevano queste macchine erano quasi tutti scozzesi e la corrispondenza tra Bulton e Vatt che non c'entra niente con Napoli la maggior parte di questi erano tutti alcolizzati quindi Poli forse non lo sapeva però questa cosa probabilmente era simile qui vedete un paio di illustrazioni avete visto i disegni proprio dell'edificio dove andava impiantata la macchina qui alcune cose vado velocemente anche se piove ancora quindi tranquillo perché non possiamo uscire ve la racconto in dettaglio la storia perché è interessante quando si avvia direttamente in Inghilterra l'avvio praticamente nel gennaio dell'88 in cui Bulton propone a Vatt di inviare un tizio che si chiama Malcolm Logan qua non ho scritto sbagliato senza la L Malcolm dovrebbe essere con una seconda L ma perché lui si firma così come l'ho scritto io anche se diciamo qualcuno ci mette la N finale o la L in mezzo vabbè contatta l'ambasciatore di Napoli a Londra che è il conto lucchese per la questione del prezzo perché Bulton dice vabbè ma insomma qua 2500 2000 eccetera eccetera il 5 febbraio incontra l'ambasciatore e gli dice senti fai presto perché già ho avuto sufficienti pressioni l'avvio definitivo lo si dà al 24 febbraio quando VAT ordina praticamente di fondere la caldaia a John Wilkinson per questa qui ovviamente VAT come vedete un po' dai disegni e vi descriverò brevemente tra qualche trasparenza queste non sono macchine in serie diciamo e questa macchina come vedremo è pure di tipo particolare tenete presente che fino al 1786 1887 proprio questa data VAT e Bult non sono ancora diventati diciamo praticamente gli unici affermati costruttori della pompa a vapore della macchina a vapore per vari usi e per vari motivi di primazie eccetera che non vi sto a raccontare ma che sono ben note temono sempre che diciamo il fallimento da qui in poi poi vanno sul sicuro e poi dal 1800 lasciano i figli eccetera quindi il nome affermato quindi si impegna per fare una cosa per bene come vedremo i preparativi vanno avanti fino a c'è una lettera del 28 maggio ci sono ovviamente vi potete immaginare tutta una serie di sguidi cose che non vi racconto in cui si ricostruisce tutto a un certo punto probabilmente per la questione del vino di prima o meglio della birra VAT dice ma se questo è un reno forse non è meglio mandare un altro che beve un po' meno diciamo che è un James Lawson e allora ne parla con l'ambasciatore senti mandiamo questo l'ambasciatore per la prima battuta dice sì poi chissà perché come forse tutti i napoletani la rappresentano ma non è che ci vogliono fare la fregatura ci volevano mandare uno buono e poi ce ne mandano uno più scarso per cui prima dice sì e poi dice no 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 ma vogliamo un'altra volta quello di prima e alla fine infatti ci mandano Logan non Lawson come qua si vede diciamo questi aveva ricevuto ordine dal re d'Apoli sostanzialmente voleva proprio i disegni della macchina per studiarseli e quindi qua gli dice a VAT mandami questa cosa prima del prossimo incontro con l'ambasciatore che sarà il 6 giugno e ci sta uno scambio di almeno due o tre lettere che dice ma non me l'hai mandata ancora queste cose alla fine gli arrivano in tempo ovviamente ci stanno ancora eccetera eccetera e il 7 giugno il giorno dopo che incontrere l'ambasciatore sembra tutto a posto probabilmente sicuramente la nave con tutto il caricato partirà prima del 18 luglio ci abbiamo la lettera probabilmente intorno al 25 26 giugno e qui diciamo trovate la fattura sostanzialmente queste sono quattro pagine e tenete presente ognuna di queste pagine è un formato un po' più grande del formato A3 quindi potete vedere possiamo sappiamo precisamente perfino le viti quante viti e per fare cosa diciamo perché qui poi doveva giustificare quanto veniva e alla fine la somma era 2000 sterline quindi abbiamo la descrizione completa a parte i disegni e dicevo intorno al 25 giugno perché del 24 giugno c'è la lettera diciamo di presentazione della ditta Bulton e Butt dell'erector di Malcolm Logan che dicono effettivamente guarda è una brava persona molto esperta e così sarà nel giugno dell'ottavo ovviamente tra luglio e agosto arriva la macchina da agosto viene pagato Logan lo stiamo l'abbiamo trovato grazie alla collaboratrice dell'archivio a Napoli nell'89 il 13 giugno ci stanno ancora problemi per l'erezione della macchina probabilmente prenderà tre anni cioè sarà completata nel 91 sostanzialmente nel 90 ancora Logan chiede qualche cosa e qua trovate tutta una cosa c'è una simpatica anche su questo Logan perché evidentemente dovevi essere proprio bravo perché quando finisci di completare finisci di completare aspetta un altro poco poi te ne puoi andare che il re voleva pagare a vuoto invece il re vuole pagare a vuoto perché se lo voleva trattenere se non che gli arriva ordi guarda noi dobbiamo abbiamo venduto un'altra macchina al re di Spagna probabilmente perché aveva visto il re di Spagna era il fratello di Ferdinando IV probabilmente perché aveva visto questo quindi devi andare tu a Cadice per fare e il re di Napoli non lo libera diciamo per gli dici no ma devi finire il mblino un po' di un'altra cosa e si capisce pure come agisce gli aumenta la paga gli sequestra le lettere fa tutta la cosa alla fine diciamo gli concede il visto nel 93 nel 93 alla fine se ne va rimane un massimo un paio d'anni a Cadice però poi lo richiamano subito un'altra volta e anche perché evidentemente lui ci vuole tornare il vino doveva essere buono giusto le ultime due o tre trasparenze per dirvi qualche dettaglio tecnico non vi ho detto che fine fa la macchina e perché scomparre dai libri di storia sostanzialmente perché vi ho detto nel 1791 probabilmente va in funzione nel 1799 ci sta la rivoluzione partenopea la macchina viene distrutta e pure lo stesso Logan fa una brutta fine qua non sono ancora riuscito a riuscire in dettaglio che ovviamente non ci sono lettere con Bulton ma ci sono le lettere dei figli di Watt che scrivono al padre che vengono a Napoli in Italia abbiamo una lettera del 1802 in cui Gregory Watt riferisce al padre che la macchina è stata distrutta che però c'è intenzione di ricostruirla appena ritornerà il re nel maggio del 1802 però poi ci abbiamo nel 1800 avverrà la seconda dominazione francese dal 1806 al 1815 e l'altro figlio di Watt James Watt Junior riferisce che poi Logan in realtà viene ucciso dalle truppe francesi poco dopo l'invasione nel Regno quindi probabilmente nel 1806 quindi praticamente sparisce la cosa giusto due paroline sulle cose è una macchina le cose standard dell'epoca era che c'aveva un cilindro a doppia azione in cui il vapore serviva sia per far innalzare che per far abbassare il cilindro e poi c'era un meccanismo inventato da Watt per il parallel motion con un pantografo e questo era standard per quello dall'83 in poi ma di eccezionale c'aveva due cose di cui uno è particolare che c'aveva tre mandrini per il working gear per il meccanismo principale come forse saprete io no ma adesso l'ho imparato ci stanno tre sostanziali valvole fondamentali per immettere il vapore per far uscire il vapore per mantenere l'equilibrio e in genere tutte le macchine quasi tutte le macchine là c'avevano due mandrini per cui due valvole stavano su un albero e uno su un altro invece questa qua ce ne sta una per una abbiamo questo bellissimo disegno perfino a colori i colori come vedete dello scritto questi marbari ho ripreso quelli originali per farvi capire e vabbè diciamo è un capolavoro effettivamente di ingegneria non vi entro nel dettaglio l'iniezione invece del vapore è operato a parte conclusioni come vi ho detto diciamo scompare una cosa e poi ritorna nel 1817 anche qui abbiamo la corrispondenza non con Poli qua Poli non c'entra niente probabilmente però c'entra l'istituto di incoraggiamento di cui lui è presidente però giusto per concludere vi riporto quello che stava scritto nella gazzetta ufficiale diciamo così del regno del giornale del regno delle due Sicilie in cui quando si ha la notizia che Ferdinando I vuole investire per i piroschi e i battelli a vapore l'intrepido amalfitano trasporterà d'ora innanzi in 4-5 giorni i nostri oli da Gallipoli a Napoli e l'industrioso trapanese andrà a cambiare i prodotti della Sicilia sulle coste dell'Africa o su quelle della Francia a meno che Salvini non glielo proibisce le ineguaglianze delle stagioni non spaventeranno più il timido mercatante ad affidare la sua fortuna al mare le incomode calme non tratterranno più i nocchieri in vista delle nostre sponde né i venti contrari li allontaneranno mentre sono loro vicini per obbligarli a nuovo in grado viaggio i primi si assicureranno affidando la fortuna a battelli a vapore e i secondi riverranno opportuni soccorsi in quelli battelli stessi dai quali potranno essere a luogo rimorchiati in seno dei nostri porti grazie grazie grazie